Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale i fatti del Friuli occidentale in primo piano. In apertura l'allarme sulla peste suina e l'Europa alza il livello di guardia per i controlli ai confini. Un focolaio in Friuli sarebbe un dramma per la nostra filiera, spiega l'eurodeputato della Lega Marco Dreosto che chiama gli esperti raccolta in un seminario a Maiano il 7 febbraio. La peste suina fa paura a un intero comparto alimentare, quello degli allevatori dei maiali e del settore della lavorazione della carne. L'Italia, dopo il sequestro di carne sospetta proveniente legalmente dalla Cina, fatto a Padova, trema e dall'Europa arriva il segnale della necessità di aumentare i controlli ai confini, come spiega l'europarlamentare della Lega Marco Dreosto che fa parte della Commissione Ambiente e Sicurezza Alimentare. L'Europa deve essere un attore molto importante nella prevenzione e nel controllo di questa patologia che sappiamo che ormai è arrivata ai confini del nostro Stato, anche quindi dell'Italia ed è assolutamente indispensabile che si inizino a prendere dei provvedimenti di contenimento e di prevenzione. Un eventuale focolaio nei nostri allevamenti sarebbe un disastro per la filiera friulana. I protocolli prevedono l'abbattimento di tutti i suini, sicuramente di quell'allevamento ma anche degli allevamenti circostanti, per cui questo innescherebbe un fenomeno a catena che poi andrebbe a ripercuotersi sicuramente anche sulla produzione alimentare. Noi sappiamo ad esempio che alcuni prodotti come i prosciutti di origine controllata hanno nel protocollo previsto che vengano utilizzati dei suini in determinate zone. La mancanza di questo prodotto comporterebbe poi a catena la mancanza del prodotto da lavorare e quindi dei prosciutti. Quindi sarebbe molto molto grave per l'economia non solo del nostro territorio ma anche di tutti i territori che oggi utilizzano queste carni. Per questo il 7 febbraio all'auditorium di Maiano, all'eventi, è stato organizzato un evento informativo sul tema. Coinvolgeremo i politici ovviamente perché la politica ha una funzione importante di controllo di norma in questo senso ma soprattutto tutti i portatori di interessi, compresi i tecnici, i cacciatori quindi che sono coloro che devono sostanzialmente dare il loro contributo in tema di controllo dell'ambiente. Parliamo dei cinghiali, il cinghiali è uno dei vettori più significativi di questa patologia. Restiamo in tema politico. Dopo la partecipazione all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Trieste, il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli nel pomeriggio ha visitato il polo produttivo e di ricerca Electrolux di Porcia. Ad accompagnarlo, assieme ai vertici aziendali, c'erano anche altri esponenti del Movimento 5 Stelle. I deputati Luca Sutta e Sabrina De Carlo e i consiglieri regionali Ilaria Dalzovo, Mauro Capozella e Cristian Sergo. L'esponente del governo ha preso visione e apprezzato l'Innovation Factory, spazio dedicato ai temi dell'innovazione applicata ai processi manifatturieri, oltre all'area di produzione dei prodotti simbolo di questo centro, lavatrici, asciugatrici e lavasciuga. Il comitato Il Friuli non è una rampa di lancio ha organizzato per domani ad Aviano, sede della base USAF, un corteo per dire no alla militarizzazione del territorio e chiedere la chiusura dei CPR. In occasione della giornata mondiale di protesta contro le guerre, sabato 25 gennaio, il comitato Il Friuli non è una rampa di lancio rivolge un appello ad associazioni, movimenti, forze politiche e sindacali per una manifestazione ad Aviano, sede della base USAF, appuntamento alle 14 in piazza Duomo per poi sfilare in corteo e raggiungere gli spazi antistanti, le piste di decollo e atterraggio della base. La trentennale belligeranza del nostro paese, fanno sapere gli organizzatori, la sua sovranità limitata ad accordi con gli Stati Uniti, ancora coperti da segreto di Stato. Le spese militari che hanno raggiunto livelli assurdi, la presenza di bombe nucleari e il loro paventato aumento sono questioni di primario interesse. È tempo che l'Italia muova passi concreti verso una propria politica estera di pace, ricostruendo relazioni internazionali basate sulla cooperazione, dicono ancora. Nel corso della manifestazione, spiega il comitato, non mancheremo di chiedere con forza la chiusura di tutti i CPR, che consideriamo l'indegno risvolto interno di una trasversale politica estera belligerante e aggressiva. A Pordenone continua a far discutere la raccolta quindicinale del secco e sono partiti i controlli per smascherare gli incivili. Per il sindaco Ciriani però non siamo di fronte a un'emergenza. A Pordenone, Polizia Municipale e GEA hanno avviato ispezioni per verificare il corretto conferimento dell'immondizia. I controlli per individuare i cosiddetti furbeti dei rifiuti erano stati annunciati dal comune. Comune che replica anche alle polemiche comparse su stampa e social locali in seguito al passaggio alla raccolta quindicinale del secco nei quartieri. Non esiste alcune emergenze rifiuti perché plastica, vetro, carta vengono raccolte normalmente. Forse non tutti sanno che in città ci sono 19.550 traccassonetti e bidoncini per la raccolta del secco. Se ci fosse una reale emergenza nella raccolta del secco legata al passaggio dalla raccolta settimanale quindicinale saremmo sommersi dai rifiuti. In realtà si è trattato di casi che abbiamo anche tra l'altro certificati 7-8 casi di condomini in cui la capienza dei cassonetti non era sufficiente per la raccolta quindicinale che verranno immediatamente implementati. 7-8 rispetto a 19.556. Se questa è un'emergenza francamente io mi metto a ridere. Il sindaco spiega anche il perché della raccolta quindicinale. Intanto diciamo che la raccolta quindicinale è già prassi in tutta la provincia di Pordenone. Noi l'abbiamo estesa per un contenimento dei costi ma per quale ragione? Perché a differenza dalle altre parti noi non abbiamo mai aumentato le tariffe per garantire il servizio. Mentre la tendenza nel resto d'Italia e nel resto del territorio provinciale è quella di ritoccare le tariffe. Pordenone non solo si assesta tra le città con la tari più bassa in assoluto a livello nazionale ma anche tra le più basse a livello regionale e questo grazie è una politica di contenimento. Passando dal settimanale al quindicinale avremo un'ulteriore contrazione dei costi. Questo sia chiaro ci ha permesso un risultato in netta contotendenza rispetto al resto d'Italia. Cioè qui a Pordenone negli ultimi tre anni da quando sono sindaco non solamente la tari non è aumentata ma è sempre diminuita. Di poco ma è sempre diminuita. Quindi garantiamo un servizio che comporta un'alta differenziazione del rifiuto. siamo secondi in Italia per la differenziata e contestualmente non comportano aumento. Passiamo alla cultura. Pordenone dedica una mostra a cielo aperto all'artista udinese Giorgio Celiberti. Le opere disposte in vari luoghi della città saranno visibili fino al 31 di marzo. Già posizionate le prime installazioni in attesa dell'inaugurazione ufficiale di domani. Al via il progetto Celiberti in città che prevede la collocazione di grandi sculture del maestro udinese nei luoghi di incontro, di passeggio nelle piazze e nei parchi di Pordenone. Sono state collocate le prime opere in piazza Calderari mentre la mostra En plein air sarà inaugurata sabato 25 gennaio alle 11 nella loggia del municipio e nei giorni immediatamente successivi verrà completata l'installazione. Le opere dell'artista rimarranno esposte fino al 31 marzo. Si potranno operare grandi fusioni in bronzo di animali, monoliti metallici o di pietra e cemento. Le 15 sculture saranno collocate nell'area del municipio, del Duomo, in via Mazzini, in piazza Cavour, in largo San Giorgio, in piazza 20 Settembre, in biblioteca, in piazza Risorgimento, all'ex convento di San Francesco e davanti al Teatro Verdi, oltre al Parco Galvani, nei pressi del Ponte Marchi e alla Santissima. Le opere, le dimensioni e la collocazione si fondono con i luoghi scelti per l'esposizione così da entrare in simbiosi con il contesto urbano e architettonico in modo armonioso e coerente. La mostra è promossa dal comune di Pordenone e da Pordenone Fiere e coorganizzata con la Fondazione Friuli. Dopo l'esperienza dello scorso anno con le sculture di Bruno Lucchi, commenta il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, rinnoviamo con Giorgio Celiberti quell'idea di arte a cielo aperto, fruibile da tutti, che abbellisce ed arricchisce la città. E domani alle 19 davanti alla loggia del municipio di Pordenone si svolgerà un momento in ricordo di Giulio Reggeni, il ricercatore di Fiumicello, scomparso quattro anni fa al Cairo e poi ritrovato morto. Per lui i genitori continuano a chiedere giustizia e verità. Nel corso della serata ci saranno alcune letture e alle 19.41 un momento di raccoglimento. E dal ricercatore di Fiumicello a un artista di Fiumicello, Ottavio Sgubin, anche se è pordenonese d'adozione ormai da tanti anni, il quale ha donato una propria opera che è stata scelta come Locandina dall'Anti di Sacile. In ricordo della giornata della memoria il 27 gennaio per il pittore degli ultimi, l'arte è un monito affinché non accadano mai più fatti simili. Ottavio Sgubin, il pittore degli ultimi, originario di Fiumicello ma ormai pordenonese d'adozione da tanti anni, il suo manifesto per non dimenticare il 27 gennaio, la giornata della memoria. Io ho voluto ricordare questa cosa perché non si dimentichi la grande tragedia dei nostri padri che sono morti nei campi di concentramento e hanno lasciato la famiglia, hanno lasciato tutto per amore di patria. Sono andati anche presi prigionieri e poi eliminati, massacrati da quel fascismo, da quel nazismo che sta purtroppo tuttora riemergendo. Abbiamo visto proprio in questi giorni la posa delle pietre d'inciampo in tante realtà tra cui anche Pordenone, Udine e Trieste. Quanto è importante l'arte per non dimenticare? È importantissima. Ero anch'io in quella manifestazione e ho avuto modo di vedere queste cose che si vedono da raro. Adesso cominciano in tutto il mondo. Con queste piastre d'inciampo si ricorda il passato per non dimenticare mai. E lunedì, giornata della memoria, si svolgeranno a Pordenone alcune cerimonie commemorative. Alle 9.30 la deposizione di una corona al monumento del deportato nei pressi di Piazza Maestri del Lavoro. Alle 10 un'altra corona sarà posizionata presso la targa commemorativa nell'ex provincia e sarà consegnata la medaglia d'onore da parte del prefetto al signor primo fagotto deportato nei lager nazisti. Alle 10.30 il concerto delle scuole cittadine nel Duomo di San Marco. Siamo allo sport. In attesa della gara di Coppa del Mondo di Snowboard che si svolgerà questo weekend a Piancavallo, la località vianese si prepara a ospitare una tappa della Coppa europea di Sci di Fondo. Organizzazione affidata allo Sciclub Panorama di Pordenone con più di 300 atleti in gara e anche il turismo ne risente positivamente. Lo sci nordico accende Piancavallo con una tappa della FIS Continental Cup, maschile e femminile, in programma dal 7 al 9 febbraio sulla neve avianese. L'organizzazione dell'evento è stata affidata allo Sciclub Panorama di Pordenone che da oltre 30 anni promuove questo sport sul territorio. Siamo molto orgogliosi di ospitare questa tappa dell'Opa Cup. Abbiamo attualmente 13 nazioni a nord di rito per un totale di 450 persone che in questi giorni alloggeranno nei nostri alberghi. Quindi dei numeri che non ce li aspettavamo all'inizio, però siamo molto molto soddisfatti. Sono circa più di 300 atleti che verranno e quindi siamo molto soddisfatti. Sono tre giorni di gara, quindi molto impegnativo il weekend. Si partirà il venerdì con una sprint. Sicuramente il sabato con una lunga distanza e domenica con la patenza individuale, con una tecnica classica. Accanto agli organizzatori è anche il comune di Pordenone, assieme a Regione, FISI e il prezioso sostegno di Promoturismo. Il comune è intanto orgoglioso di avere qua nelle file delle nostre associazioni la associazione Panorama che al suo interno ha lo ciclo Panorama. Riusciremo a fare anche questa grande manifestazione il prossimo febbraio che farà sicuramente grande la nostra Pordenone. Piancavallo, al centro di una serie di eventi internazionali, punta così a tornare a rinverdire i fasti del passato. Noi lavoriamo in sinergia con Promoturismo. Negli ultimi due anni in Piancavallo l'amministrazione comunale di Aviano ha investito tantissimo, ma non ci fermeremo qua. Nei prossimi bilanci abbiamo già inserito ulteriori investimenti per la località turistica del Piancavallo e saranno fatte veramente delle cose egregie. I parcheggi speriamo di aumentare la risettività di circa 150 posti auto che fino a oggi effettivamente è una delle carenze del Piancavallo. Era questa l'ultima notizia per stasera. Dopo di noi il quiz Lo Sapevo condotto da Alexis Sabot. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna lunedì alle 20.45. Grazie per essere stati con noi e buon weekend. Grazie per essere stati con noi e buon weekend.